VITAMOZUO Gruppi Telegram fissati nel primo commento Hola ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video su VITAMOZ Ragazzuoli oggi vi porto un nuovo outfit completamente verde quindi fatto con i joggers verdi Partiamo subito dai requisiti, sessione a inviti giusto per stare molto più tranquilli Poi ci serviranno ovviamente i joggers verdi e qualche soldino per acquistare degli outfit Ovviamente andiamo a fare anche questo bel caschetto verde Partiamo subito dalle scarpe Allora partiamo dalle scarpe, andiamo su scarpe, andiamo su sneakers e andiamo a prendere il 6 su 37 Quindi a collo alto verdi A questo punto ragazzuoli andiamo invece sulla parte superiore Parte superiore dobbiamo andare a prendere questo giubbotto da lavoro E andiamo su 70 su 75 Quindi 59 su 60 e poi 70 su 75 Facciamo una volta cerchio andiamo su parti superiori tattiche e andiamo a prendere il 31 su 39 A questo punto ragazzuoli andiamo su accessori e andiamo a mettere anche i guanti Quindi andiamo accessori, andiamo su guanti e andiamo a prendere i guanti 68 su 72 Tattici foresta A questo punto ragazzuoli ci sbagliamo un attimo la testa perché ovviamente la andiamo a fare dopo E andiamo a fare però quindi il casco colorato Andiamo su copricapo, andiamo su caschi antisommossa e andiamo a prendere il casco LSPD Mi raccomando, quindi casco LSPD Lo andiamo a selezionare e dobbiamo andare a comprare anche questi caschi Adesso ve li faccio vedere Quindi caschi e andiamo a prendere questa tipologia di casco Ogni casco ovviamente vi darà un colore differente Ve l'ho già portato sul canale Noi andiamo a utilizzare questo qua, morte Che ci darà il colore verde Perciò lo andiamo ad acquistare prima questo e poi andiamo ad acquistare il casco antisommossa Utilizziamo quindi il casco antisommossa LSPD Andiamo fuori, prendiamo un veicolo nostro o comunque un veicolo cittadino E ci avviciniamo alla portiera Dobbiamo diventare innanzitutto CEO Quindi diventiamo CEO Ovviamente senza farvi investire Quindi diventiamo CEO A questo punto davanti alla portiera andiamo su stile Andiamo su casco e andiamo a selezionare il casco morte Quello là di prima Quindi che vi ho fatto acquistare prima Andiamo a selezionare il casco morte Adesso fate attenzione a questa parte Su casco mettiamo morte Dopodiché andiamo su paracadute Premiamo triangolo Una volta all'interno facciamo cerchio Andiamo su CEO, gestione, stile Una volta freccia destra Una volta freccia sinistra Cerchio, cerchio, cerchio A questo punto ragazzolo di nuovo cerchio Andiamo su stile Andiamo su visiera casco Rimaniamo fermi Premiamo triangolo Una volta fuori Chiudiamo la visiera casco E ovviamente diventerà verde Questo ce l'andiamo a salvare al negozio Che abbiamo più vicino Ovviamente Quindi andiamo a salvarlo Salvarlo in un qualsiasi slot Tanto non andiamo a utilizzare A fare G Io vado a salvarlo Sempre sul primo A questo punto ci spostiamo Al cannocchiale sulla spiaggia Così le andiamo ad abbinare Pure qualche maschera Ok ragazzoli Arrivati al cannocchiale Possiamo mettere Qualsiasi maschera Quindi io ad esempio Vado su maschera E vado a mettere Questa maschera Di Halloween Che ovviamente Col completo ci può Ci sta benissimo Voi potete personalizzarlo Come volete Ad esempio Ci sono i passamontagna Verdi Che ci stanno benissimo Come questo qua Ve lo faccio vedere O comunque Altre maschere Lo potete fare Allo stesso metodo Che vi faccio vedere io Con qualsiasi maschera Io utilizzerò Questa qua Del demone A questo punto Faccio cerchio 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 Vado verso il cannocchiale Premerò freccia destra Touchpad Premuto E vado a selezionare L'outfit Che abbiamo a prena Creato Quindi quello green Lo vado a selezionare Cerchio 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 E mi allontano Dal cannocchiale Come vedete Ci ha glitchiato Sia il casco Che abbiamo fatto E anche la maschera Ora ovviamente Questo outfit Ce lo andiamo a salvare Al negozio di maschere Ok ragazzuoli Una volta arrivati Al negozio di maschere Andiamo verso il negozio di maschere Premiamo freccia destra E andiamo Semplicemente A sovrascrivere L'outfit Che abbiamo fatto Perciò ragazzuoli Outfit Veramente semplice Carino E veramente carino Come outfit Semplice Senza A fare G Perciò ragazzuoli Se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Bella Mi raccomando Ragazzuoli Spolliciate Spolliciate Spolliciate